Anche Italia oggi boccia la Calabria. Dopo il dossier del sole 24 ore, le province calabresi messamente in coda anche nel report del quotidiano economico Disastro Vibo Valencia, al primo posto in Italia per disagio sociale. La nuova questione meridionale, cosa fa il governo per il mezzogiorno? Quali prospettive si aprono con il patto per il mezzogiorno? Fausto Orsomarso parla di pacco del governo. Giuseppe Aieta, invece, sottolinea la ritrovata sinergia tra Renzi e Oliverio. Oggi, in consiglio regionale, approda la legge di stabilità. L'andrangheta incisa sulla pelle la storia di Angelo Salvatore Cortese, ex-ndranghetista alla corte del super boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri. Da pentito depone davanti al Tribunale di Torino e racconta l'onorata società tramite la foto dei suoi tatuaggi. Sporting locri avanti con le indagini, mentre la dirigenza della squadra di calcio a 5 conferma di voler abbandonare il campionato di Serie A femminile, vanno avanti le indagini sulle minacce subite. Adriana Musella si fa avanti e offre il suo sostegno alle ragazze. Crotone fuga per la Serie A. Dopo due pareggi, la squadra pitagorica sbanca il campo di Chiavari battendo l'entella. Un solo punto la separa dal Cagliari, avversario diretto all'uscita nel big match del prossimo turno. E buon pomeriggio, questi dunque i principali fatti del giorno. In cima alla nostra scaletta un nuovo report sulla vivibilità. Dopo quello del sole 24 ore, anche Italia oggi boccia la Calabria. Le province calabresi, alcune delle quali guadagnano posizioni, restano comunque in coda. E nella speciale classifica italiana sul disagio sociale, vivo Valencia e addirittura prima. Michela Mancini. Ad essere ultimi ci siamo abituati. Dopo la classifica del sole 24 ore sulla qualità della vita, un altro quotidiano economico Italia oggi dà i voti. La Calabria? Bocciata. Le nostre cinque province non smentiscono la tradizione e conservano il fondo della classifica. Tra gli indicatori presi in esame, affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale, popolazione, servizi finanziari, sistema salute, tempo libero e tenore di vita. E proprio nel disagio sociale, in cima alla classifica, c'è Vibo Valencia che conquista un altro primato negativo, benché nella graduatoria generale faccia meglio di Cosenza, Reggio Calabria e Crotone. Catanzaro è la provincia con la pagella migliore, ottantesima e con un grosso balzo in avanti, di ben 18 posizioni rispetto al 2014. Vibo Valencia si piazza 83esima, il leggero miglioramento rispetto ad un anno fa, quando era segnalata al novantesimo posto, oggi occupato da Reggio Calabria, che precede di un nulla a Cosenza. Fa passi da gigante e Crotone, 86esima della classifica di oggi, 106esima nel 2014. Un'unica magra consolazione, le province calabresi fanno meglio di grandi città come Palermo, Catania, Lecce, Bari e persino Napoli. E rispetto al quadro che abbiamo delineato grazie al report di Italia Oggi, cosa sta facendo il governo per questa regione? Quanto potrà incidere il patto per la Calabria illustrato nel corso dell'ultimo consiglio regionale dal presidente Oliverio. Noi l'abbiamo chiesto a due autorevoli espressioni del centrodestra e del centrosinistra calabrese, Fausto Orsomarso e Giuseppe Aieta. Ascoltiamoli ai microfoni di Emilio Casciaro. Questo è un governo che è assente rispetto al mezzogiorno, visto che qualcuno, qualche deputato celebrava nei giorni scorsi il credito d'imposta, che con i nostri governi era al 60%, questa è una mancia al 20%, insomma delle cose veramente ridicole, si sente un'assenza di classe dirigente calabrese in questo partito di maggioranza e si sente soprattutto un sud che non è soltanto la Calabria ma anche Napoli, insomma abbandonato. Quindi credo che questo nello spot modello Renzi, perché poi ci mancherebbe altro. Io sono convinto, vale per Oliverio, vale anche per Renzi, che governare l'ho vissuto sulla mia pelle negli scorsi anni in un momento difficile, non è semplice, che però questo sia un governo degli annunci inutili e che vuole recuperare la non attenzione ai territori, si riduce a questo documento, a questo pacco per la Calabria, a definire così. C'è questa sensibilità nuova, ricordo che sul mezzogiorno il Presidente Renzi ha tenuto una direzione del Partito Democratico e che nel frattempo, da agosto ad oggi, sono successe tante cose. Intanto è avvenuto che il Presidente Oliverio ha intensificato le relazioni col governo centrale, dai trasporti al turismo, alle grandi opere, al Salerno Reggio Calabria, insomma tanti segmenti di un quadro generale, di una visione politica che faranno parte del patto per il Sud e per Calabria in particolare. Proprio questo pomeriggio torna a riunirsi a pochissimi giorni della precedente seduta il Consiglio regionale. All'ordine del giorno, in particolare, bilancio pluriennale e legge di stabilità regionale. Il punto nel servizio di Tiziana Bagnato. Una manovra blindata con margini di movimento e di appello alquanto risicati. Solo il 13% totale del budget potrà essere infatti soggetto alle possibili decisioni della Giunta, in sostanza briciole. A pro da oggi a Palazzo Campanella il bilancio 2016-2018, con questo anche la legge di stabilità del 2016, è il DPEF, il Documento di Programmazione Economica Finanziaria. In tutto l'astronave oggi manovrerà 5 miliardi e 400 milioni di euro, anche se il termine è improprio, visto che emendamenti e variazioni di spesa sono esclusi a priori. Anche le risorse su cui non gravano vincoli hanno già una loro destinazione, dettata per lo più da emergenze. È il caso degli stipendi di alcuni enti, delle spese per il personale della Giunta e dei fondi per quello delle province. Figurano nella seduta odierna anche le riserve per gli emodanneggiati, la cui protesta arrivò fino in piazza, visto che per mesi si ritrovarono senza indennizzo, fino all'accordo poi raggiunto dell'inserimento di quanto dovuto in bilancio. Solo 21 i milioni per settori, quali diritto allo studio, politiche sociali e protezione civile, mentre ben 120 quelli che andranno a confluire nei conti delle fondazioni e degli ambienti subregionali, piega perenne della Regione. Ma quali sono i punti cardine della legge di stabilità oggi al vaglio del Consiglio regionale? Eccoli sintetizzati in questo servizio dedicato al documento licenziato dalla Commissione bilancio presieduta appunto da Giuseppe Ajeta. Via libere della seconda Commissione del Consiglio regionale alla legge di stabilità calabrese 2016, approvato anche il bilancio di previsione per il biennio 2016-2018, una manovra che ammonta complessivamente a 5,4 miliardi di euro, alla sanità la fetta più grossa, 3,59 miliardi, pari al 67%. 496 milioni riempiranno invece le casse del programma di azione e coesione, il cosiddetto PAC. Le entrate libere da vincoli invece e da destinare a finalità autonomamente definite della Regione ammonteranno a circa 700 milioni, pari al 13% delle risorse attualmente iscritte. Di questi, 126 milioni andranno al personale della Giunta regionale, comprese i fondi per i dipendenti provenienti dalle province, 21,6 milioni per il funzionamento di carattere obbligatorio per l'acquisizione di beni e servizi, 58 milioni andranno al Consiglio regionale, comprese le spese per il personale. Agli enti subregionali sono destinati ben 116 milioni, mentre le risorse per il precariato si fermano a 49 milioni di euro. E voltiamo pagina a quella che adesso vi raccontiamo, è la storia di Angelo Salvatore Cortese, pentito di primo piano dell'Andrangheta crotonese. Una storia che egli stesso, di fronte al Tribunale di Torino, ha ricostruito mostrando una foto dei suoi tatuaggi. Ce ne parla in questo servizio Michela Mancini. L'Andrangheta, Angelo Salvatore Cortese, ce l'ha incisa sulla pelle. L'ex braccio destro del boss Nicolino Grandiaracri, collaboratore di Giustizia dal 2008, ha svelato la mappa criminale che porta sul suo corpo. Simboli che parlano di regole d'appartenenza, come l'enorme figura di San Michele Arcangelo, che Cortese si è fatto tatuare sulla schiena. Nel corso di un'udienza, il collaboratore ha mostrato ai sostituti procuratori della DDA di Torino una fotografia che svelava i suoi tatuaggi, abitudine assai rara per un'Andranghetista. Le ha fatti fare nel 2007, nel pieno della sua attività criminale. Sulle spalle, Cortese, si è fatto disegnare il carcere di Favignana, simbolo della custodia per i grossi personaggi dell'organizzazione mafiosa. Ma la vera mappa criminale, Cortese ce l'ha sulla spalla sinistra, uno scheletro con un pugnale nella mano destra e con una bara ai suoi piedi. Davanti alla bara c'è il libro mastro aperto. Sulla pagina destra ha disegnata una stella, sull'altra c'è un ferro di cavallo sul quale sono incisi tre pugnali incrociati. Poi, fuori dal libro, c'è un calice e un teschio con sopra una candela accesa. Scheletro, bara e teschio ricordano la sua partecipazione ai fatti di sangue. Gli altri segni rimandano a rituali. Tanti, tantissimi rituali. Un mondo sommerso a cui Cortese sarà comunque legato per sempre. Le cronache continuano a tenere accesa l'attenzione sullo Sporting Locri. La squadra femminile di Calcio 5, la cui società ha annunciato il ritiro dal campionato di Serie A per le intimidazioni subite. Le calciatrici vorrebbero tornare in campo, mentre gli inquirenti non escludono alcuna pista. Francesco Creazzo. La voglia di continuare è tanta e il 10 vorremmo fortemente scendere in campo e continuare l'avventura iniziata a fine agosto. Parole di Rossana Rovito, calciatrice dello Sporting Locri, la società di calcio 5 femminile della città ionica. Quella stessa squadra che ha interrotto la sua avventura in Serie A dopo le minacce al presidente Ferdinando Armeni. Una decisione che ha fatto notizia scatenando la gara di solidarietà nei confronti di Locri e dello Sporting, prima ancora che gli inquirenti abbiano chiuso le indagini. Le calciatrici però avrebbero voglia soltanto di fare sport. Abbiamo bisogno in modo concreto della vicinanza di persone generose, ha dichiarato ancora Rossana Rovito. La solidarietà va bene, è fondamentale, ma per andare avanti servono fatti concreti. Quel che è certo è che nessuno calpesterà i nostri sogni. Nessuno dovrebbe calpestare i sogni delle ragazze in Amaranto, ma la domanda che tutti si pongono è chi può avere interesse a farlo? A chi dà fastidi una squadra di calcio a 5? Gli inquirenti mantengono per ora il massimo riservo e non escludono ancora alcuna pista, nemmeno quella della vendetta personale contro Armeni, nemmeno un'intimidazione a sfondo economico. Non arrendersi davanti a coloro che tramano nell'ombra. Questo è il monito della presidente di riferimenti Adriana Musella che invita lo Sporting Locri a tornare in campo e si fa avanti per un eventuale sostegno alla squadra. Tiziana Bagnato. La solidarietà c'è, e anche tanta, dalla politica e dallo sport. Ma c'è anche chi non accetta che una squadra possa mettersi da parte, rinunciare a un sogno per colpa di chi si è messo in testa di volere fare paura, pressioni, minacce, riuscendoci. Tra questi la più dure è Adriana Musella, presidente dell'Associazione Riferimenti, che dalla sua pagina Facebook dice «Una squadra sportiva che chiude per mafia, obbedendo alle sue minacce. Allora è vero che in Calabria comanda la criminalità ed è il popolo calabrese che vuole così, visto che non reagisce, che non si indigna, ma continua ad abbassare la testa come i dirigenti di questa squadra di calcio». Parole dure, quasi di rimprovero, ma forse anche di sprono. Ecco i Musella affianca poi una sua proposta. «Se la squadra è destinata ad essere ceduta, oltretutto gratis, il coordinamento riferimenti con la sua gerbera gialla potrebbe offrirsi di rilevarla», accenna la presidente, chiedendo subito «Dobbiamo essere però aiutati, non è il nostro campo e non abbiamo soldi né rendite al sole. È soltanto un'idea da vagliare, quantomeno le magliette le forniremo. Le ragazze giocherebbero col simbolo della resistenza, la gerbera gialla per lo sport in calcio». Non ci stanno nemmeno il presidente del CONI, Giovanni Malagò, e il numero uno della FIGC, Carlo Tavecchio, fino al governatore Oliverio e a diverse personalità della politica e dello sport. Marmeni, presidente della squadra, ribadisce la sua mancata disponibilità ad andare avanti. «Torniamo adesso ad occuparci dell'omicidio di Carmine Avato, l'uomo di San Cosmo albanese, assassinato a novembre nel piccolo centro del Cosentino. Ha arrestato il cognato, ritenuto il mandante, ed un altro cittadino romeno, considerato l'esecutore materiale. Gli inquirenti spiegano come hanno risolto il caso». «Solo 48 ore dopo avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per un'udienza relativa alla separazione dalla moglie, ma Carmine Avato, il muratore 52enne di San Cosmo albanese, freddato nella notte tra il 14 e il 15 novembre scorsi, non ci è mai arrivato, raggiunto, mentre rientrava a casa, da quattro colpi 7,65 che non gli hanno lasciato scampo». E proprio nei forti contrasti familiari sarebbe, secondo gli investigatori, il movente dell'omicidio. Ad ordinare l'esecuzione sarebbe stato Salvatore Buffone, cognato 31enne della vittima, mentre a premere il grilletto il romeno Christian Dulan, il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, e il capitano, Francesco Barone, in conferenza stampa hanno illustrato l'iter seguito dalle indagini, coordinate dal PM Anastasia. In particolare, rivelatrice sarebbe stata la perquisizione a casa di Dulan, che accortosi dell'arrivo dei carabinieri, avrebbe tentato di disfarsi della pistola, lanciandola dalla finestra. Una mossa azzardata, e di cui gli uomini dell'arma si sono accorti. Dulan, arrestato in flagranza per il possesso della pistola, avrebbe allora iniziato a fare delle ammissioni, coinvolgendo il cognato della vittima. Un legame in loro che era già emerso dalle intercettazioni telefoniche. Nei prossimi giorni, i due stati di fermo dovrebbero essere tramutati in arresto, perché, assicurano gli investigatori, il quadro sembra essere ormai chiaro. E adesso, in breve, gli altri fatti di cronaca della giornata. Ancora sangue sulle strade calabresi. La vittima è Domenico Mezzatesta, 26 anni, a bordo dello scooter che è andato ad impattare contro un altro mezzo. Il grave sinistro in un incrocio di via nazionale Pentimele. Lo scontro è stato fatale per il giovane, che dopo l'urto è andato a sbattere contro il muro della ferrovia. Inutili soccorsi. Il giovane ha perso la vita sul colpo. Un 45enne di Cutro è morto in un incidente stradale avvenuto all'alba di domenica, in Emilia-Romagna. La vittima è Francesco Migale, imprenditore edile originario del popoloso centro del Crotonese, ma da tempo residente a Cremona. Da quanto ricostruito dalla stradale emiliana poco prima delle 5 del mattino, l'auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada. A bordo, altre due persone ricoverate in gravi condizioni. I carabinieri della stazione di Palizzi, nella Locride, hanno arrestato un 21enne del posto, che dopo essere stato lasciato dalla sua fidanzata, ha prima sfondato a calci il portone d'ingresso dell'abitazione, per poi tentare di introdursi in casa. Il giovane avrebbe anche minacciato di morte l'ex suocero, per poi dare fuoco all'auto di famiglia. A placare gli animi del 21enne, l'intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio, tentata violazione di domicilio, danneggiamento e minaccia grave. Oltre 1.200 fuochi d'artificio detenuti illegalmente e 61.000 prodotti pericolosi del valore di 250.000 euro, risultati privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge, è il risultato di una vasta operazione di controllo effettuata dai finanzieri nei confronti di negozi cinesi nella provincia di Vibo, Valencia. I controlli hanno accertato che in una delle attività erano stati ammassati per la vendita decine di scatoloni contenenti più di 1.200 artifici pirotecnici pericolosi. Lo sport fermi, ieri i campionati di Lega Pro e Serie D è comunque ampia la nostra pagina sportiva. Riprendiamo dalla Serie B dove, dopo due pareggi consecutivi, il Crotone torna al successo sul campo dell'Entella. Chiavari decidono Martella e Capezzi, i Pitagorici restano sulla scia del Cagliari, prossimo avversario alla ripresa del campionato. Né Budimir né Ricci a rubare la scena questa volta non sono le due stelle crotonesi, ma Martella e Capezzi, tanta qualità e quantità, ma due che non ti aspetti alla voce marcatori. Sono loro a strappare la copertina nel post-match di Chiavari contro l'Entella. Loro le firme sui gol che tagliano le gambe genovesi già dopo mezz'ora di gioco. Juric lascia in panchina Stojan e butta nella mischia da subito Palladino. L'ex Parma è in giornata, al pari di Balasa, che al nono pesca Martella dentro l'aria e di Rosso Blu sono già avanti. Al quattordicesimo Caputo sfiora di un soffio l'immediato pareggio, poi al venticinquesimo arriverà a doppio calabro. Su una ripartenza Budimir fa il lavoro sporco, Palladino inventa una gemma di assist per Capezzi che da dentro aria fa 2-0. L'Entella reagisce e accorcia subito e il ventisettesimo quando Costa Ferreira smarca Caputo, palla e mezzo per Masucci, bravo a spingerla dentro. La gara cala di livello nella ripressa, L'Entella spinge, il crotone arretra pericolosamente, Juric si arrabbia, viene espulso al settantaquattresimo, ma il risultato non cambierà più. Vince il crotone, meglio di tutti per punti raccolti, l'anno solare a tinte rosso-blu. Ben 72 quelli conquistati. Gli ultimi tre permettono ai Pitagorici di restare in scia del Cagliari, campione d'inverno tra i cadetti e di staccare il Novara di sette passi. Un buon bottino da amministrare con l'anno nuovo quando il campionato dei ragazzi di Juric riprenderà dallo scida proprio contro i sardi di Rastelli. In sala stampa Ivan Juric, tecnico del crotone, ha analizzato così il successo esaltando le qualità degli avversari, capaci di arginare la sua squadra soprattutto nella ripresa. Devo dire che il primo tempo veramente era spettacolare, che era ribaltimento di azioni, che loro potevano fare gol, noi potevamo fare gol. Mi sono divertito tanto, primo tempo. Il secondo tempo però non mi andava bene perché rischiavamo troppo, per cui il secondo tempo ci siamo abbassati di più, siamo stati più dietro, abbiamo concesso poco, anche se loro avevano dominio. Penso che in contropiede, con spazi che si sono aperti, avevamo tre o quattro palle gol da chiudere. Però complimenti veramente anche a loro perché ho visto un'ottima squadra, sia fisicamente, sia tatticamente, sia anche a livello individuale. Ho visto certi giocatori che mi sono piaciuti tanto. Noi siamo un gruppo di tanti ragazzi, sinceramente, di 19, 20 anni, 21, ma tantissimi, che arrivano o da Cio o da Primavera. Poi abbiamo tre o quattro giocatori più esperti che ci danno una grossa mano, però noi siamo sempre al limite, come avete visto oggi. Non siamo una squadra che arriva a Cagliari, domina, vince e se ne va. Noi dobbiamo soffrire ogni volta così per ottenere vittorie. Vuol dire che la linea è molto sottile da successo e in successo. Dobbiamo rimanere molto, molto umili. Alvia il calcio mercato. A pochi giorni dall'inizio ufficiale delle contrattazioni invernali facciamo il punto tra le formazioni di Lega Pro con particolare attenzione, ovviamente, le squadre calabresi. I campionati sono in pausa, ma il calcio non va mai in vacanza, come le trattative di mercato, attive ogni giorno, incandescenti, alla vigilia dell'apertura ufficiale delle contrattazioni. Non ci saranno rivoluzioni, ma i movimenti, le entrate e uscite tra i club di Lega Pro saranno parecchi, soprattutto nel girone C, il più equilibrato dei tre grupponi di terza serie. Il Benevento starebbe per chiudere con il centrocampista offensivo Gianpietro Perrulli della Salernitana e dalla società Granata potrebbe partire e sarebbe un ritorno anche l'attaccante Eusepi. Pure il Lecce vuole rafforzare il reparto offensivo e punta con decisione a Di Carmine, Zito e Giacomelli. Il primo è il nome seguito per l'attacco, uno degli altri due dovrebbe arrivare per giocare da esterno in un eventuale tridente. Carcione del Messina è inseguito con insistenza dal Cosenza che allo stesso tempo sarebbe anche interessato a Gigli del Lecce. A proposito dei gelorossi, in difesa potrebbe esserci dei cambiamenti. Il terzino, Lobue, è seguito dall'Akregas e potrebbe partire anche Liviero. Benassi invece è conteso tra Pisa e Arezzo. La Fidelisandria potrebbe fare un colpo in attacco così come è la ricerca di un attaccante anche il Matera. Si cerca un giocatore per reparto invece a Catanzaro. Almeno queste sono le intenzioni del DG gelorosso Carmine Donnarumma, chiamato prima però a svoltire la rosa. Gli innesti potrebbero riguardare tanti ex. In difesa il nome più caldo è quello di Rolis Bacchetti mentre quello più gettonato a centrocampo potrebbe corrispondere ad Alessio Benedetti anche se il vero obiettivo DG gelorossi resta Fabio Scherzella ex Vigor oggi al Catania pupillo di Alessandro Erra. Il trainer dell'US potrebbe riavere a disposizione anche un altro ex Lamezia ovvero Gabriele Puccio che al momento veste la maglia del Mantova. In attacco al Catanzaro serve un uomo che segni con continuità. Riccardo Improta del Cesena potrebbe essere l'uomo giusto? Di mercato nelle scorse ore hanno parlato anche Andrea Razziti ed Alessandro Erra attaccante tecnico del Catanzaro il primo non si muoverà dai tre colli su di lui punta fortemente il trainer giallo-rosso che punta a due tre innesti. Due mesi fa ci veniva detto che eravamo scarsi adesso ci viene detto che dobbiamo guardare la prima posizione secondo me la verità sta nel mezzo nel senso che siamo una squadra che è riuscita a ritrovare sicurezza nei propri mezzi e anche un pizzico di fortuna e tranquillità anche quindi dobbiamo far più punti possibili per restare fuori da quella zona là poi vedremo che cosa dirà il mercato e sicuramente se dovessimo riuscire a continuare con questa concretezza potremmo tolgere soddisfazioni importanti. Non credo nelle rivoluzioni non credo nel fatto che si possa andare ad integrare questo gruppo che già di per sé ha discrete qualità quindi dobbiamo essere bravi a non sbagliare i tasselli giusti nel mosaico segreto tutto là e cercare di farli arrivare prima possibile. Dal calcio al basket la Viola Reggio Calabria batte Barcellona vince stavolta convince pure Francesco Creazzo Sotto l'albero nero-arancio c'è la prima vittoria convincente della stagione la Vermeere Gio Calabria ha battuto ieri al Palacalafiore il basket Barcellona per 82 a 63 partita mai in discussione con equilibri chiari fin dal primo quarto i siciliani non entrano mai in partita complice l'assenza del perno della squadra Franco Migliori mandando in bestia coach Bartocci in conferenza stampa Barcellona ultima in classifica offre poca resistenza insomma una Viola determinata che ha trovato un fuoriclasse in Roberto Rullo 24 punti con il 50% da 3 e il 66% da 2 per la guardia abruzzese della Viola e un più 20 di valutazione coronano una serata trionfale buone anche le prove di Breckins e di Jon Lupusor che finalmente trova minuti importanti per dimostrare di aver fatto il salto di qualità appannata salvo che in un finale a difese ormai saltate la prova di Crosariol che i rumors di mercato danno per partente prossimo ad essere sostituito dall'ex capitano Marco Ammannato nel finale passerella anche per i giovanissimi Pandolfi e Sindoni nel tripudio nero arancio del palapentimele adesso per la Viola la partita più importante si chiama mercato a gennaio dovrà essere sostituito Marco Mordente l'ormai ex capitano allontanato dalla squadra ed effettuati alcuni movimenti nel roster per risalire una classifica che al momento vede la squadra di Benedetto terz'ultima raggiante per il risultato e per la prestazione dei suoi anche coach Benedetto che davanti ai giornalisti ha commentato il successo della Viola così oggi dovrei dire mi è piaciuto un po' tutto l'atteggiamento mi è piaciuto l'attenzione che hanno messo in tutte le cose la disponibilità mi è piaciuto veramente un po' tutto questo ci fa ben sperare perché il lavoro che facciamo con il mio staff ogni giorno è proprio dedicato a questa cercare di dare maggiore tranquillità e sicurezza ai nostri atleti nel momento in cui scendono in campo e probabilmente il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che sta dando i suoi frutti però ripeto ora ci aspettano due trasferte importanti per Giunta perché quando la sfiga colpisce non solo sugli infortuni ma anche sul calendario ci prende in pieno adesso abbiamo l'ultimo giorno dell'andata e poi dopo tre giorni avremo la prima di ritorno quindi comunque avremo altre due trasferte che quest'anno mi sembra incredibile Gaetano mi sembra che abbiamo giocato solamente in trasferta un altro passo in più abbiamo fatto un altro passo in avanti prendiamo consapevolezza dei nostri mezzi sicurezza dei nostri doti delle nostre qualità e il lavoro che si svolge in settimana dove è sincero piano piano non riusciamo a portarlo fuori strano dei suoi frutti Bene tutto grazie per averci preferito vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione oggi alle 16.30 adesso come sempre un breve riepilogo dei principali servizi del nostro telegiornale buon proseguimento ad essere ultimi ci siamo abituati dopo la classifica del sole 24 ore sulla qualità della vita un altro quotidiano economico Italia Oggi dà i voti la Calabria bocciata le nostre cinque province non smentiscono la tradizione e con Zangheta Angelo Salvatore Cortese ce l'ha incisa sulla pelle l'ex braccio destro del boss Nicolino Grandiaracri collaboratore di giustizia dal 2008 ha svelato la mappa criminale che porta sul suo corpo simboli che parlano la voglia di continuare è tanta e il 10 vorremmo fortemente scendere in campo e continuare l'avventura iniziata a fine agosto parole di Rossana Rovito calciatrice dello Sporting Locri la società di calcio 5 femminile solo 48 ore dopo avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per un'udienza relativa alla separazione dalla moglie ma Carmine Avato il muratore 52enne di San Cosmo Albanese freddato nella notte tra il 14 e il 15 novembre scorsi non c'è mai erda a rubare la scena questa volta non sono le due stelle crotonesi ma martella e capezzi tanta qualità e quantità ma due che non ti aspetti alla voce marcatori sono loro a strappare la copertina nel post match di Chiaveri contro Lentella loro le firme sui gol che tagliano le ghiere visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della CNews24 va in onda alle 16 e 30 i calabresi sono informati a presto